Ai comuni mortali il termine frattale dice poco, nulla, eppure possiamo trovare frattali nei cavolfiori, nell'aureola sul capo di San Nicola, perfino nei polpi. Non sono altro che oggetti geometrici che si ripetono nella loro forma, dove ogni parte assomiglia al tutto. Succede anche nello studio delle cellule. Insomma, medicina e matematica dialogano tra loro, così come la musica gioca con la matematica. Con esempi semplici ci spiegano concetti apparentemente astratti Fiorella Sassanelli, giornalista musicologa barese, e Antonietta Mira, docente di statistica a Lugano. Questi modelli matematici e modelli statistici ci aiutano a comprendere meglio i fenomeni, perché li semplificano e ci promettono di riprodurli su un computer. E una volta che li abbiamo capiti nella loro essenza, possiamo per esempio riprodurre la felcizzazione nelle lacrime o nel muco nasale artificiale, risolve tutta una serie di problemi medici usando il computer e questi modelli matematici. In una serata da tutto il Saurito va in scena al Teatro Petruzzelli Art and Science, un format ideato e diretto da Matteo Gelardi, Otorino Laringoiatra e Citologo, una nuova edizione che unisce medicina, matematica e musica. È bello vedere come da un laboratorio, dal microscopio, le immagini diventano quadri, da quadri diventano abiti, da abiti diventa danza, da danza diventa musica, che diventa tutto spettacolo. Spazio alle note della pianista Cleglia Sarno e poi alla sfilata di Giovanna Gelardi, ispirato alla Citologia, dove ogni abito ripropone un quadro e addosso scivolano cellule colorate.